ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerai foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il farmaco veterinario fluen sui vax a cosa serve fluen sui vax a un medicinale veterinario a base del principio attivo vaccino influenza suina inattivato appartenente alla categoria degli vaccini e nello specifico vaccini virali inattivati è commercializzato in italia dall'azienda patro industria farmaceutica veterinaria spa fluen sui vax può essere prescritto con ricetta rn rvd ricetta non ripetibile veterinaria di lgs 218 2023 informazioni commerciali sulla prescrizione titolare patro industria farmaceutica veterinaria spa concessionario patro industria farmaceutica veterinaria spa ricetta rn rvd ricetta non ripetibile veterinaria di lgs 218 2023 principio attivo vaccino influenza suina inattivato gruppo terapeutico vaccini forma farmaceutica flacon iniettabili confezioni fluen sui vaximo sottoc 1 flacone 100 ml 50 dosi principio attivo una dose di vaccino 2 ml contiene cultura inattivata di virus dell'influenza suina h1 n 1 400 ua cultura inattivata di virus dell'influenza suina h3 n 2 400 ua eccipienti adiuvante alluminio idrossido indicazioni per la immunizzazione attiva del suino per prevenire la mortalità i sintomi e le lesioni dell'influenza da virus h1 n 1 e h3 n 2 insiezio dell'immunità 4 settimane dopo la vaccinazione di base durata dell'immunità circa sei mesi controindicazioni nessuna nota posologia dose 2 ml per capo il vaccino va inoculato per via sottocutanea preferibilmente nella fossetta retroauricolare o per via intramuscolare preferibilmente nella regione del collo l'uso simultaneo con il vaccino liofilizzato ad live sui vax risospendendo quest'ultimo confluen sui vax non comporta alcuna interazione negativa per entrambi i prodotti programma vaccinale suini all'ingrasso prima vaccinazione a circa tre mesi di età seconda vaccinazione dopo 15 30 giorni riproduttori vaccinazione di base effettuare due interventi a intervallo di 15 30 giorni l'uno dall'altro richiami successivi ogni sei mesi avvertenze precauzioni speciali per l'impiego degli animali somministrare a soggetti in buone condizioni di salute rispettando le condizioni di asepsie in caso di manifestazioni di ipersensibilità allergica intervenire subito con antistaminici tempi di sospensione 0 giorni fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato